VENEZIA Venezia, arriva il nuovo elicottero in dotazione alla Polizia di Stato. È un gioiello della tecnologia, una prova tangibile che Venezia dà i punti di vista dell'ordine pubblico e nell'attenzione dei vertici del Dipartimento. Così il questore di Venezia, Maurizio Mascio Pinto, ha commentato questa sera l'atterraggio presso il decimo reparto volo della Polizia di Stato dell'elicottero di ultima generazione Poli 119. Ha segnato al territorio veneziano un modello di ultima generazione Augusta Westlandi Poli 119 ha segnato al territorio veneziano dal capo della Polizia, Lamberto Giannini il velivolo, che sarà utilizzato in tutto il Triveneto. A bordo sistemi di ripresa che permettono di effettuare tracciamenti di vetture e persone a qualsiasi ora del giorno e della notte, e consente di operare, in caso di necessità, in silenzio. È in grado di superare i 300 chilometri all'ora e ha una capacità di carico fino a 15 passeggeri per noi è strategico avere una macchina di questa portata, ha aggiunto il questore di Venezia dottor Maurizio Mascio Pinto perché ce l'abbiamo in loco. Mentre prima dovevamo lavorare solo su situazioni programmate, ora siamo pronti a intervenire anche in caso di emergenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.